buonasera sono qua per parlare di un argomento su un telefonino yaomi redmi note 7 pro o non pro redmi 7 io ho la versione 4 giga e 64 de ram e molti hanno un problema del costo delle prossimità a me questo telefono va molto bene le foto sono ottime è un buonissimo telefono anche di materiale il mio colore è blu infatti fa belle fotografie bei video ho scaricato alcuni giochi va benissimo entro su facebook mi senti tutto quanto benissimo non hanno nessun problema non supporto quelle persone che parlano male su questo telefono che invece un ottimo telefono per 199 euro un telefono ottimo 4 giga e 64 de ram a me vanno benissimo con memoria spendibile poi dual sim è veloce ha un ottimo processore quadra core non scalda come dicono molti che redmi scalda e quadra non è vero niente il video che sto facendo infatti lo sto facendo con redmi questo qua e potete sentire come si sente bene il video tutto quanto entro su facebook faccio video le fotografie le fotografie sono ottime di giorni e di notte a me non da nessun problema non capisco per quale motivo c'è gente che dice a me il costo delle prossimità mi da problemi quello mi da problemi quello mi da cosa boh io so questi problemi che dite voi non li ho trovati sono serenesi che ho questo telefono qua benissimo non mi da nessun problema c'è gioco ai giochi c'è vado su inter c'è vedi video su youtube tutto quanto non capisco per quale motivo la batteria mi dura due giorni buoni se non fai un uso intenso se no un giorno e mezzo però per 199 euro è un telefono ottimo paragonabile a telefonini che costano 4 500 euro c'è la fotocamera 48 megapixel è vero non so 48 megapixel effettivi so un po' di meno infatti che sono divisi saranno 13 15 megapixel come dicono in tante prove quello e quell'altro però le foto del giorno o di notte li fa bene poi se avvicinate l'immagine vedete che che non ci sono puntini non c'è non ci stanno errori di niente le quali di là li fa bene la batteria dura parecchie la batteria da 4000 internet è ottimo non dà nessun problema i materiali sono abbastanza buoni quello e quell'altro ma che volete pretendere per 199 il telefono super eccezionale accontentiamoci perché ci sono telefoni facciamo le marche Samsung per esempio la Sony LG questi qua che vi pensate che soltanto costano il doppio e vi pensate che hanno le fotocamere che sono meglio del Redmi di qua di là io ho fatto il paragone con un amico mio che ha l'LG K40 K60 mi ricordo dell'LG infatti io ho fatto la foto io ha fatto la foto lui su quello suo che l'ha pagato 400 euro la fotografia faceva schifo e sul mio da 200 euro la foto era buona era una bella fotografia quindi non conta il prezzo conta il telefono i materiali quello che ti pare tanti telefonini costano 500 euro 600 euro questo costa il più è meglio il quadro della tante tutti i telefonini che sapete tutti i telefonini che vedete o Sony o Sanseo il tuo cavolo dite voi tutti quanti vengono prodotti in Cina le batterie i processori tutto quanto viene dalla Cina quindi non dico beh ma quello è cinese Redmi è cinese Redmi sarà cinese come dite voi che questo telefono è cinese ma ha venduto 25 milioni di telefonini Redmi 7 normale Redmi Note 7 25 milioni di pezzi e la versione Pro quindi non ci lamentiamo tanto e poi questo telefono con le offerte c'è stata la versione più piccola da 3 gigabyte e 32 che se prende a 110 euro ma che cavolo volete quella più potente mostra un'offerta che ho io 179 euro accontentate e poi se volete prendere il telefonino non dovete annappiare o lo prendo su ebay o lo prendo su amazon ed è qua e là che sicuramente qualcosa cambia li dovete annappiare il negozio come ho fatto io da 1 euro eronico che avranno una garanzia del negozio e tutto quanto e non vi lamentate poi c'è un problema con prossimità c'è un problema con quello c'è un problema con quello il telefono si compra al negozio non si comprano sui siti su internet amazon ebay ed è qua e là perché possono essere telefonini che vengono dalla Tunisia, telefonini rigenerati e telefonini di altre cose quindi prima di comprare il telefono e di giudicarlo pensate c'è 10 volte che io l'ho comprato al negozio 199 euro è il 460, 4 è de ram e 64 gigabyte de rom l'ho preso al negozio a 199 euro e c'è una garanzia di 2 anni ecco e questo qua è il global proprio redmi 7 note 7 global la versione global italiana in poche parole ma arrivano aggiornamenti tutto quanto non si è mai imballato la batteria perfetta a due giorni e mezzo io lo uso in continuazione arriva a 2% le batterie e gioca finché si spegne a volte l'audio è discreto se si sente bene non così però se si scaricano delle applicazioni per sentire meglio l'audio e i suoni è ottimo poi la fotocamera se volete una fotocamera è ancora più eccezionale ci sono delle applicazioni per scaricare delle camere aggiuntive che diventa proprio eccezionale il telefono ma che volete di più? memoria espandibile, processore che è una bellezza lo schermo da 6.3 pollici tutto quanto e giudichiamo a volte il telefono eh non è così il telefono non è paragonabile a quello il telefono è paragonabile ma che ci sarà da dire? il telefono invece è paragonabile proprio a telefoni da 4-500 euro che vi fanno vedere vedete che i telefoni da 4-500 euro hanno stesse funzioni, stesse caratteristiche e le foto sono pure peggio che in telefonino che costa 200 euro accontentatevi che è meglio ciao a tutti buon sabbara e buona domenica e non giudicate e non giudicate redmi che sono i meglio telefonini ciao a tutti